Sono Nella Bergoglio, nata su questo bricco, Portacomaro Stazione, e la parentela con Papa Francesco, il mio bisnonno e il suo bisnonno erano fratelli, quindi condividiamo un trisnonno, il trisnonno Bergoglio Giuseppe. Qui sono le radici di Papa Francesco, quindi tutti sono un po' curiosi, tutti le fa piacere di conoscere, di scoprire queste terre. Nei primi tempi pochi addetti ai lavori sapevano che lui aveva degli antenati astigiani, c'era già qualche libro, penso al libro di Libert che ne parlava, e poi la parentela chiaramente a Portacomaro e i vari paesi dell'astigiano, ma i più non lo sapevano. Le prime notizie che avevo avuto sono state poi pubblicate nel 2005, quindi intorno al 2003-2004 avevo già preso contatti con parenti qua in Piemonte, nell'astigiano, nella zona di Castellarfero, Portacomaro, proprio per avere delle informazioni, delle notizie. Mi suona il mio telefono personale e dico, ma chi sarà a quest'ora che mi chiama? e poi rispondo, sono Papa Francesco, e io ho detto, eh, magari io non ci credo. E lui mi dice, allora sono il tuo diavoletto. E di lì ho capito che era lui, mi sono emozionata, mi sono messa a piangere, ci siamo andati, gli ho chiesto, vediamoci, e poi non mi ricordo più cosa, perché sono andata in tilt. Non ce l'aspettavano? No, non me l'aspettavo. Il giorno di Natale alle 15.41, non ho cancellato la telefonata, il numero era coperto, però l'ho tenuto, anche coperto. Bellissimo, sì. Il fatto di mantenere questi contatti con le cugine e con i parenti è un po' un segno di questo suo attaccamento comunque alle origini piemontesi. Il nonno del Papa venne battezzato nella chiesa parrocchiale di Porta Comaro e alcuni avi del Papa sono sepolte al cimitero qua di Porta Comaro. Nella chiesa dedicata a San Bartolomeo, la chiesa che è nella comune di Monte Chiaro d'Asti, in questa chiesa troviamo il fonte battesimale dove il 26 di marzo del 1857 venne battezzato il bisnonno del Santo Padre e gli venne messo proprio il nome di Francesco. Anche alcuni parenti sono anche proprio, non solo continuati a vivere qui, come anche la sua cugina, ha avuto il piacere anche di conoscere in un'altra parrocchia, cunico proprio settimana scorsa. Quando mi hanno detto guarda che c'è qua la cugina del Papa è venuta a salutarmi, io sono rimasto impressionato vedendo proprio lo stile, lo slancio, la simpatia, proprio quelle caratteristiche che comunque si vedono nel Papa Francesco.